Episodio 14 di Tikinter, oggi vediamo come aggiungere quella che viene definita menu bar alla nostra applicazione, quindi questa qua in alto con gli strumenti, modifica, file, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto ci basta creare una menu bar, menu bar, eccola qua, e facciamo riferimento ad un menu, eccoci qua, facciamo menu e lo inseriamo su root. Adesso andiamo a fare root.config, eccoci qua, e vogliamo associare come menu la nostra menu bar. E fin qua tutto bene, proviamo ad andare a schermo, vediamo cosa abbiamo, potremmo aver tutto così come niente ed effettivamente non abbiamo niente. Benissimo, abbiamo degli altri step da fare, quindi il primo step consiste nell'inserire almeno una voce, perciò facciamolo. E abbiamo file menu, questo è classico, vedete, è questo qua in alto, quindi file menu uguale a menu.menu bar, eccola qua. Quindi abbiamo qua creato la menu bar grande a cui abbiamo fatto un menu collegato a root. Adesso facciamo un menu collegato a menu bar, quindi è tipo una matrioska, alla fine è quello che sono i vari menu. E abbiamo il nostro menu, quindi se io faccio check così, andiamo a vedere, ancora non abbiamo niente. Questo perché dobbiamo andare ad aggiungere il nostro menu, quindi menu bar, punto add cascade, eccolo qua. Apriamo come label, scriviamo file, e adesso ve lo spiego tutto il giro. E come menu, file menu, proviamo a salvare, vediamo il risultato, perfetto. Ok, vedete, abbiamo il nostro file dentro, non c'è niente, e adesso lo andiamo a mettere. Ma che cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo creato la nostra menu bar, menu bar, che è semplicemente la barra. E l'abbiamo configurata sulla nostra root, quindi queste due, con questo lo creiamo, sapete, widget lo associamo a root, e poi a root lo configuriamo come menu effettivo, quindi creiamo il widget, lo associamo al menu effettivo della root, andiamo a creare la prima voce di menu, quindi file menu, così, e andiamo ad aggiungere, ok, il nostro menu. Di conseguenza, se io facessi così, menu bar add prova, e qua metto prova underscore menu, se io vado qua e faccio prova menu, e io salvo, guardate un po', abbiamo un'altra voce. Ok, quindi adesso sappiamo mettere dentro le voci iniziali, molto bene. Quello che ci manca adesso è mettere il sottomenu di file, quindi per mettere il sottomenu di file, dobbiamo aggiungere un comando, quindi abbiamo questa è la menu bar, questo è il menu file, questi sono i comandi, ok? Quindi prendiamo file menu punto add command, eccolo qua, e vogliamo inserire cosa? Label, il nome, cominciamo ad aggiungere exit, perfetto, e li aggiungiamo come comando, visto che lo sappiamo fare, command root punto quit, potremmo fare, facciamo così, salviamo, ups, manca questa, perfetto, salviamo, ecco qua il risultato, file exit chiudo, ok? Quindi, ripeto, abbiamo creato la nostra menu bar, la barra, abbiamo creato la label file, questa qua in alto, con questa l'abbiamo associata, e mentre invece con questo abbiamo creato il comando esci, questo qua, perfetto. Quindi questo è un semplice menu. Ora, cosa potremmo fare? Potremmo aggiungere più sottocomandi. In questo caso li lasciamo tutti come root quit, però andiamo a mettere magari, cerchiamo di copiare da qua, nuovo, ok, quindi diciamo new, facciamo open, perfetto, quindi possiamo fare così, new, open, lasciamo command root quit, non è un problema pure, possiamo anche toglierli, fate un po' come volete, per me è totalmente irrilevante. Cosa vogliamo andare a fare? Sempre collegati a file menu, ok, quindi li lasciamo tutti qua. E adesso vogliamo vederli, perciò salva, andiamo qua a vedere, spostiamo, file, e vedete che abbiamo new, open e exit. Qual è la situazione? Che noi spesso li dividiamo con un separatore. Come unire questo separatore? È super facile, ci basta metterci qua, quindi in modo gerarchico, file menu punto add separator, bam, e io apro e chiudo, salvo, rimandiamo a schermo, ecco qua il nostro separatore, vedete? Se lo spostate in alto, se lo spostate in alto, avrà effetto in alto, eccolo qua, vedete? È stato spostato, quindi possiamo capire che il separatore ha proprio effetto gerarchico. In base a dove lo mettete, tra uno, tra un comando e l'altro, avete un risultato diverso. Quindi ecco come aggiungere un separatore. Andiamo a creare però un sottomenu, qui ne abbiamo new, open, magari mettiamo altro, tanto per, perfetto, quindi abbiamo altro. Quello che vogliamo fare è da altro avere un effetto del genere, vedete? Apri recenti, così, oppure preferenze. Vogliamo avere questo genere di sottomenu. Perciò vogliamo andare a creare un file sub menu, potremmo farlo così, oppure potrebbe essere file altro, yes, sub menu, questo perché abbiamo, oppure facciamo sub menu tutto attaccato, così, sub menu così, quindi file, decido perché fa riferimento al file, altro perché fa riferimento al comando altro, sub menu, quindi dobbiamo creare un menu, normalissimo, che non agganciamo né a root né a menu bar, agganciamo direttamente a file menu, qui così, poi, poi andiamo ad aggiungere file altro sub menu, add command, bam, aggiungiamo semplicemente due comandini e gli mettiamo il label, gli scriviamo ciao, voglio essere abbastanza veloce e qua buongiorno. Proviamo a vedere il risultato, file, altro, abbiamo un problema, perché? Perché non possiamo aggiungerlo così. Io vi ho fatto così per far vedere che questa sarebbe stata la nostra prima impressione. Invece noi togliamo questo, perché non ci serve così, ma vogliamo andare a aggiungere che cosa? Vogliamo andare a aggiungere un file menu punto add cascade, come label mettiamo il nostro altro, oppure preferenze, fate come volete, e come menu abbiamo sub menu, eccolo qua. Proviamo a vedere il risultato, eccoci qua, altro, perfetto. Ora, voglio fare un'ultima modifica veloce, voglio togliere quello schifo di barrette che abbiamo in alto con tier off 0, ci mettiamo qua con tier off 0, vediamo un po', posto, vedete abbiamo tolto le barrette che abbiamo in alto, abbiamo altro che apre un sottomenu, molto bene. Quello che ci manca adesso è spostarlo in alto, quindi vi ho detto che è gerarchico, perciò bella tutta sta sottoclassificazione, ma sfortunatamente a sto giro, finché poi non mettiamo eventuali funzioni che vanno a generare il menu, dobbiamo strutturarlo così. Quindi, perfetto, proviamo a salvare. Come vedete non abbiamo ancora finito, perché? Perché manca anche la cascata, perciò, tac, aggiungiamo, fa il cascata, invio e se io apro, vedete, new, open, altro, sottomenu e exit. Quindi, ecco come andare a creare una barra degli strumenti, praticamente. Abbiamo il nostro menu importante iniziale e tutte le applicazioni lo devono avere, più piccolo, più grande, è rilevante, dipende da quante cose avete, ma questo è. Quindi, per oggi abbiamo finito, al momento non mi ricordo cosa vediamo nel prossimo video, intanto sotto trovate il link al mio secondo canale, sito e i modi per supportare il canale. Io vi ringrazio e alla prossima, ciao ciao!